Freedom Water 2017 ha visto l'epilogo stagionale con la disputa della quinta prova che ha incoronato Roberto Pasquini nella categoria maschile e Francesca Secci in quella femminile. Nel quarto anno in cui c'è questa manifestazione stiamo iniziando a raccogliere dei numeri importanti insomma una giornata di festa in cui persone con disabilità sfidano persone che non hanno disabilità in una gara di nuoto che appunto come dice il nome in realtà porta la libertà in acqua. Campionato italiano? Campionato italiano di nuoto paralimpico, oggi si definisce il campione italiano appunto della manifestazione e non solo, abbiamo anche due grandi ospiti russi, due campioni delle Paralimpiadi del 2012 che insomma onoreranno la manifestazione, quindi siamo molto insomma contenti e curiosi di vedere come andrà. Questa è l'ultima di cinque tappe, quindi oggi assegneremo i titoli dei primi tre classificati settore maschile e settore femminile. Quest'anno per decisione anche per arricchire la manifestazione oltre ad essere il campionato italiano paralimpico il circuito delle nuoto in equilibrio rientra nel campionato nazionale della federazione italiana nuoto, quindi ci troviamo normodotati e atleti con disabilità che nuotano insieme e questa è una delle finalità principali del comitato italiano paralimpico e della federazione, quella di fare integrazione. Abbiamo due atleti vincitori delle Paralimpiadi di Londra 2012, Daniel Roman Makarov e Sergei Punko. Sergei Punko è il terzo anno che viene qua, le prime due stagioni ha vinto lui, quest'anno è uno dei favoriti. Freedom in Water 2017, la degna chiusura in uno scenario davvero speciale, quello di Canigione e domani Palau. Assolutamente sì, abbiamo scelto sempre questa location per fare le gare, è una bellissima location oltre al fatto che i due comuni che ci ospitano sono disponibili e in più soprattutto da non dimenticare il contributo del comitato italiano paralimpico e dell'INA il Sardegna.